ragazzi a chi facesse piacere iscrizione al canale gratis e campanellina per come la vedo io l'inter deve essere gratis per tutti gli interisti e soprattutto per chi vuole bene all'inter come noi iscrivetevi al canale è gratis altrimenti sappiate che va bene lo stesso io mi diverto uguale Qatar Airways nome fatto su questo canale sei mesi fa da Alessandro G spiegava che i rapporti tra Qatar ed Arabia Saudita stavano migliorando soprattutto rapporti commerciali Alessandro G sei mesi fa spiegò perché in caso poteva essere uno sponsor catariota e non uno sponsor saudita il fatto che eh ci potesse essere uno sponsor catariota non vuol dire assolutissimamente che la proprietà è catariota perché altrimenti se tutte le scuole di calcio dovrebbero avere la proprietà in base allo sponsor che hanno addosso eh voglio dire potremmo aiutere eh la sala cinesca non è così che vuol dire io ho uno sponsor eh cinese non vuol dire sì che che il proprietario sia cinese che discorsi sono questi ma nonostante tutto Alessandro spiegò sei mesi fa c'è la live andatevela a riprendere che i rapporti tra Qatar e l'Arabia Saudita stavano migliorando soprattutto i rapporti commerciali ripeto gli si anche poteva non essere uno sponsor Saudita per non esporsi troppo discorso anche delle aziende Mena aziende veicolo create sempre dai sauditi per non esporsi troppo con la UEFA perché sono nel milino della UEFA ma Alessandro ci parlò anche di Kuwait Airlines diciamola tutta disse Qatar Airways e Kuwait Airlines fece questi due nomi Alessandro G io sinceramente di questa cosa qui non ne so molto se volete vi ricercate la live lui spiegò tutto di questa roba qua quindi è tutto agli atti ragazzi è tutto agli atti su questo canale è tutto agli atti qui non si usa il nome di nessuno qui qui è tutta roba nostra fatta in casa poi ci sarà poi si sbaglia tutti ci mancherebbe noi non siamo dei giornalisti non vogliamo pretendere certo di fare informazioni noi qui parliamo di calcio ma Qatar Airways sul canale degli esonerati è un nome che è stato fatto da Alessandro G circa sei mesi fa in primis in seconda battuta lui fece anche il nome di Kuwait Airlines rapporto Qatar Airways Sauditi soprattutto a livello commerciale che comunque stava migliorando ed è migliorato ancora di più ad oggi il fatto che eh ci possa essere uno sponsor Qatar Airways non vuol dire assolutissimamente eh che la proprietà debba essere Qatar Airways anche perché c'è stato un netto miglioramento dei rapporti nel tempo soprattutto ripeto da qui a sei sette mesi fa quando Alessandro G fece questo nome io di questo sponsor sinceramente non so nulla veniamo a noi partita fondamentale domani con un con il Benfica e viene comunque dalla vittoria eh contro il Porto quindi se vi ricordate eh l'anno scorso nella doppia sfida abbiamo sfruttato un super barella cosa che purtroppo attualmente non è perché non è il barella de di quella sfida lì della doppia sfida eh del Benfica e il Benfica ragazzi è una squadra comunque rognosa perché eh non gli devi concedere secondo me di palleggiare troppo perché poi prendono fiducia e incominciano a essere pericolosi perché se gli fai nascondere la palla per come la vedo io potrebbe essere un problema perché si sta parlando di una squadra forte lascia perdere l'anno scorso che li abbiamo masserrati si sta parlando comunque di una squadra di una squadra forte quindi bisogna concedergli il meno possibile di palleggiare e di far girare la palla e questo che bisogna fare contro il Benfica perché è la loro arma migliore fortunatamente davanti non hanno killer di aria che appena la toccano la buttano dentro quindi è una partita da giocare vengono da la sconfitta contro il Salisburgo quindi loro hanno il dente non avvelenato di più saranno feroci saranno combattivi eh ci proveranno te lo dico subito quindi è una partita difficile 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 è una partita difficile attenzione al Benfica si parla tanto di questo centramanti no all'inter manca il centramante la prima prima all'inter non manca allora la cosa primaria che manca all'inter è una proprietà che possa spendere qualche soldo no perché poi non sempre ti va bene prima manca una proprietà poi dopo discutiamo che manca un centramanti che manca un play che possa dare eh un play come si deve che possa dare respiro a lanoglu che manca un centramanti pista fisico il mio nome numero uno è Kefren Turam parlo da un anno di Kefren Turam Kefren Turam e ti dirò di più tra i due tra Kefren e Marcus non lo so chi è più forte attenzione ho dei dubbi perché Franco Turam è un animale è un animale Franco Turam c'è un giocatore nell'inter il figlio di Simic di Dario Simic Rocco Simic che è fortissimo a vent'anni un metro e novanta tecnico veloce scaltro forte in aria bravo di testa agile va in profondità un'intelligenza tattica fuori dal comune fuori dal normale io lo seguivo da un po' di tempo ma ho parlato con Michele un ragazzo della chat che lo conosce molto meglio di me ed è veramente forte questo ragazzo è veramente è veramente forte quindi il primo investimento da fare è su è su Rocco Simic che ad oggi lo prendi secondo me con una cifra non spropositata ed è un centramanti ragazzi fortissimo ora dopo un mesetto e mezzo due che lo seguo ve lo posso dire Rocco Simic figlio di Dario Simic dell'Inter ragazzo la testa a posto ricorda un po' il primo Ibra no? ricordi il primo Ibra ecco lui ricorda un po' il primo Ibra ma secondo me questo ragazzo diventerà fortissimo Rocco Simic segnati questo nome perché poi ragazzi è finito tutto all'Inter non c'è più soldi non c'è più capito non c'è più lo scouting che è finito tutto è finito tutto questo ragazzo andare lì a prendere subito ma il discorso anche dello scouting ma giuntoli del Napoli ragazzi giuntoli del Napoli ha fatto l'avvoltoio sulle trattative e stava portando avanti ausilio osimen quara schelia lo stesso kim che è andato al Bayern Monaco erano trattative e stava conducendo asilio quando poi è andato a dirgli guarda bisognerebbe pagare qualcosa il cilese gli ha fatto maramao sono tutte trattative stava portando avanti eh ausilio e giuntoli si è affiondato con un avvoltoio su trattative ben impostate perché giuntoli aveva i soldi e ausilio no quindi di cosa vogliamo ragionare sono questi gli acquisti da fare vai al Salisburgo e prendi simbici con venti metti cinque milioni quelli che sono mi sembra che il ragazzo sia un duemila un duemila uno per chi non lo conoscesse andate dai video si vede poco bisogna vederlo giocare come si muove andate a vedere questo ragazzo visto siamo in ambito champions no parliamo anche di Rocco Simic fortissimo per me per me fortissimo nome sconosciuto giusto sasco chi quanti nomi si facevano Balogun Rocco Simic e io spero vivamente visto che il padre di Turam ha apprezzato molto l'Inter lo stesso Marcus Turam detto Tikus un top player Tikus Turam si sta trovando benissimo all'Inter io spero vivamente che l'Inter ad oggi sia in lista per prendere sia in fila per prendere uno un crack mondiale a livello di centro abissi che è che freno Turam ciao Inter ciao Malone ciao ciao ciao